Accanto alla religiosità della festa di Sant'Agata con i momenti dedicati alla sacralità delle celebrazioni si fa spazio anche lo spettacolo suggestivo come quello che ormai la tradizione ha definito i fuochi della sera del tre. Uno spettacolo piromusicale che anche quest'anno ha coinvolto l'affollatissima piazza Duomo dove un tappeto di folla ha applaudito un evento a dir poco straordinario, la lucentezza dei fuochi d'artificio preceduta e accompagnata dalle note dell'orchestra per salutare la primavera giornata dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata che si concluderanno lunedì 6 con l'ingresso del feretoro Agatino in cattedrale. Ma l'atmosfera di festa si respira anche e soprattutto all'interno del palazzo degli elefanti affollatissimo. di ospiti sia istituzionali che non che si affacciano appunto dalle finestre la sera del tre per ammirare lo spettacolo che ancora in questo momento alle mie spalle sta davvero suggestionando tutti quanti.